Ciao, oggi ti volevo parlare di come aiutare i nostri figli a sviluppare le loro competenze. Io sono psicologa, psicoterapeuta breve strategica, mamma di due figli, Clara di 8 anni e Alexandra di 4 anni, quasi 4 anni, e in un ultimo periodo, ultimi due mesi, ho parlato in modo più accentuato, frequente, sull'andamento scolastico dei nostri figli, su che tipo di corsi farli fare e su come aiutarli a sviluppare, essendo ancora piccoli, le loro competenze. Allora ho deciso di preparare questo breve video dove vi presento il mio punto di vista, perché comunque sono stata chiesta, ho parlato con diversi genitori, con i familiari, con amici, e insieme cercavamo di trovare un miglior modo per aiutare i nostri figli, già in età prescolastica, scolastica e da adolescenti, a sviluppare le loro competenze. Per poter pensare come accrescere e migliorare le competenze dei nostri figli, dobbiamo pensare quali sono gli elementi che le compongono. Le competenze hanno tre ambiti. Primo sono le conoscenze, secondo sono le capacità, e terzo è un atteggiamento verso la realtà. Adesso brevemente vi presento queste tre, cerco di approfondire questi tre elementi che creano insieme delle competenze, sia nostre che dei nostri figli. Perciò ripeto, sono le conoscenze, le capacità e l'atteggiamento. Allora parliamo delle nostre conoscenze. Quando parliamo delle nostre conoscenze, ovviamente, chi dovrebbe coprire questa area? Ovviamente la scuola. La scuola ci permette di imparare come scrivere, come leggere, conoscere bene la storia, la storia d'Italia, del mondo, la geografia. Ci dà tutte queste informazioni, tutte queste informazioni molto dettagliate che permettono di acquisire delle conoscenze per i nostri figli. Qui possiamo pensare in che modo noi genitori abbiamo impatto su questo elemento, sulle conoscenze. Ovvio, se abbiamo possibilità economica o abbiamo voglia, possiamo iscrivere i nostri figli alla scuola privata. Se invece abbiamo deciso di portarle a scuola pubblica, anche qui dobbiamo accettare quello che la scuola pubblica comporta. Se non siamo contenti, se non siamo contenti di quello che ci propone la scuola, delle conoscenze che dovrebbe insegnarci e loro non lo fanno, gli insegnanti, il sistema, non vogliamo cercare i colpevoli, noi come genitori dobbiamo pensare in che modo noi possiamo aiutarli a acquisire nuove conoscenze. E qui il mondo che ci circonda ci aiuta, ci permette a sfruttare l'ambiente, per imparare biologia, la fisica e tutto quello che ci circonda. Però sappiamo che la prima area è la della conoscenza e qui la responsabilità maggiore sta da parte della scuola. Parliamo della seconda area, delle nostre capacità. Ovviamente ogni bambino, ogni essere umano deve imparare tantissime capacità nell'arco della vita. Qui brevemente vi presento sei, se ricordo bene perché qui c'è tutto scritto per non dimenticare di nulla, sei capacità principali che ogni bambino dovrebbe imparare nei primi 18 anni di vita. Prima, sono tutte le competenze, tutte le capacità di vita, ovvero ogni bambino deve saper prendersi cura di se stesso. Cosa significa? Che ogni genitore deve creare le possibilità dove i nostri figli possono imparare a come prendersi cura di se stessi. Perciò a tre anni possiamo insegnargli come vestirsi, come lavare i denti, come mettere a posto la stanza, come prendersi cura della propria salute, come saper lavare i propri vestiti ai bambini già più grandi, come chiedere aiuto. Perciò tutto ovviamente dipende da l'età. Il mio figlio di quattro anni già riesce a fare il primo corso di base su come fare la lavatrice e riesce già a distinguere cose pulite da sporche, metterle dentro, le piace mettere dentro detergente e piano piano lo insegna che tipo di bottoni spingere per accendere la lavatrice. La grande di otto anni riesce da sola a prepararsi la colazione, si riscalda il latte, si porta il piatto e non si aspetta che io mattina devo occuparmi anche di questo. Ovviamente ricerco di insegnare anche cosa è sano o non sano, che cosa mangia, se quest'alimento li fa bene o non li fa bene. Perciò queste sono le prime capacità legate ai bambini stessi, come prendersi cura di se stesso. Il secondo elemento, ogni bambino dovrebbe saper prendersi cura del proprio ambiente, in questo senso di prendersi cura della propria stanza soprattutto, di riuscire a pulirla, di riuscire a mettere a posto i giochi, mettere a posto i vestiti, a 3-4 anni riesce a mettere i calzini nell'armadio, alle 7-8 anni riesce a mettere a posto i propri vestiti, piegarli bene, sapere come tenere bene il bagno, pulito il bagno e che tutto non si pulisce da solo. Ovvio che la mamma, papà o la donna delle pulizie lo fa ancora meglio, ma non possiamo sempre pensare che lo faranno gli altri a posto loro, perciò lo stesso la cucina, come preparare la vastovia, come svuotarla, come mettere i piatti e i bicchieri a posto, come apparecchiare. Ci sono tanti elementi che ogni bambino in diversa età potrebbe imparare, perciò come prendersi cura di se stessi, come prendersi cura dell'ambiente in quale si vive e terzo elemento molto importante, come prendersi cura di se stessi nelle relazioni con gli altri. E qui parliamo del comportamento assertivo, anche del comportamento assertivo dei nostri bambini, perciò ogni bambino deve saper esprimere le proprie emozioni, saper gestire ad esempio le critiche, quando si va a scuola già in prima elementare si sentono tutte le prese in giro, deve saper reagire in questa situazione, deve saper difendere i propri confini. Ovvio qualcuno mi può chiedere, io voglio insegnare, voglio iscrivere il mio figlio a questo tipo di corso, però a volte i corsi non bastano, i nostri figli imparano dal nostro esempio, perciò se vedono che anche noi non riusciamo a prendersi cura di noi stessi nelle relazioni, non riusciamo a essere assertivi, esprimere quello che sentiamo, quello che pensiamo senza intenzione di ferire gli altri, ovvio che noi siamo i loro primi esempi, perciò tutto quello che imparano, impareranno da noi. Perciò quando il genitore diventa assertivo, anche i figli naturalmente lo diventeranno. Infatti il 13 ottobre, in occasione della giornata nazionale della psicologia, organizziamo qui a Modena una giornata con diversi seminari gratuiti, e anche là, sabato, se ricordo bene, il 13 ottobre alle 11, parlerò proprio dell'autostima, assertività e atteggiamento. Sono quelli tre elementi fondamentali che aiutano a stare meglio con se stessi e con gli altri che hanno il mondo. Perciò il terzo elemento è questo, andiamo avanti. Il quarto elemento è come costruire le relazioni con gli altri. In questa età digitale è sempre più difficile costruire le relazioni sane con gli altri. I bambini lo devono imparare già dai piccoli, come esprimere i propri sentimenti, come esprimere l'affetto, come accogliere l'affetto che gli altri hanno verso di loro, come curare l'amicizia, come prendersi cura dei propri amici, come riconoscere le relazioni sane da quelle tossiche. Molto importante, a me piace tantissimo parlare con grande, soprattutto che ha sette anni e mezzo, di questo elemento e analizzare perché lei ha fatto questo, perché tuo amico si è comportato in questo modo, cosa hai fatto tu, cosa potevi fare diversamente. È molto molto importante a parlarne. In questo modo aiutiamo i nostri figli a sviluppare la loro intelligenza emotiva, che sappiamo nelle ultime classifiche di World Economic Forum, che parlano dei 20 skills, capacità del 2020, una delle prime è proprio questa intelligenza emotiva, e non solo la robotica. Perciò, se noi come adulti riusciamo a gestire e costruire bene le relazioni sane con gli altri, anche per i nostri figli sarà tutto più semplice. Poi, gli altri due elementi principali che compongono le capacità, le capacità che i nostri figli devono sviluppare nell'arco dei primi 15-20 anni della vita, sono la capacità di riconoscere i propri punti di forza e saperli sviluppare. E' molto importante, perché ne parlo? Perché quello può diventare la base per costruire le competenze professionali. Se riusciamo a osservare bene i nostri figli, riusciamo a riconoscere i loro punti di forza, il mio figlio è di 4 anni, ad esempio, lo osservo e vedo che non ha tanta voglia di giocare a pallone, ma voglia tanta di costruire, capire come funzionano le cose, e questo già per me vedo come è interessato, come è curioso, come riesce ad essere concentrato su questo tipo di gioco e cerco di sviluppare, di rinforzare i suoi punti di forza e vedere come questi loro suoi punti di forza possono diventare prossime competenze che aiuteranno a scegliere un lavoro o costruire un lavoro che lo appassiona, che lo appaga. E non voglio pensare che a 16 anni gli inizio a dire, guarda, fai medicina, fai, non so neanche che cosa ti dà sicurezza in questi tempi, o l'altro mestiere, o informatico, perché ti può aiutare in futuro, perché può darsi che mio figlio non ha nessuna passione in merito di questo, non ha delle competenze, non è curioso, perciò questo sarà solo un'altra delusione, l'altro è il suo fallimento. Perciò come riconoscere le proprie capacità e noi genitori dobbiamo aiutarli a sviluppare questa cosa, a pensare, in che cosa sei bravo? Come potresti ancora svilupparlo? Come potresti ancora diventare più bravo in questa cosa che già ti appassiona? E questo è fondamentale, è uno dei lavori, dei ruoli che noi genitori dobbiamo portare avanti. Ultima capacità nel tutto percorso delle competenze è la capacità di gestire i soldi e saperli guadagnare. E qui c'è l'altra cosa, l'altro argomento molto vasto che si potrebbe affrontare parlando per le ore, però vediamo che i figli d'oggi sono dei consumatori, quelli che consumano, quelli che comprano, quelli che spendono, e non sono figli che sanno guadagnare, sanno produrre. E la tecnologia, tutto il mondo digitale, noi lo affrontiamo a volte in modo sbagliato, perché creiamo i nostri figli, li diamo tutto a disposizione e li rendiamo i consumatori. Invece le dobbiamo anche aggiungere l'altro ruolo, tu puoi consumare, ma prima devi saper produrre. Produrre anche, parlando, produrre ovvero saper guadagnare soldi, saper gestirli. E parlando delle mie esperienze, io non sono uscita dalla casa, dalla mia casa familiare, con tutte queste competenze, ma in questo momento riesco a riconoscere che non sono molto brava. E cerco di migliorare la mia capacità di gestire bene i propri soldi, che non significa solo risparmiare, ma riuscire a dividerle in diversi ambiti della mia vita e saperli tenere a bada, saper investire. E penso che i bimbi a questa età le possono fare anche. La grande, ma anche piccolo, già hanno due vasi dove sono soldi da spendere e soldi da risparmiare. E sono soldi da spendere che hanno guadagnato facendo piccoli lavori, non lavori di casa, ma ad esempio, come dicevamo prima, sono certe competenze, capacità che devono avere, ovvero prendere sicura di se stessi, dell'ambiente, pulire, saper lavare, saper mettere in ordine, ma sono certi elementi che io li permetto di guadagnare soldi. Ad esempio, i miei figli, l'estate soprattutto, mi lavano la macchina. Sicuramente non è lavata perfettamente, ma per loro, da una parte è un gioco, ma da un'altra parte è un lavoro che li permette poi dopo avere dei soldi da spendere. E mi sono accorta tante volte che quando li ha permesso di guadagnare i loro soldi, durante l'estate, durante l'anno scolastico, è che dopo non hanno tanta voglia di spenderli. Mamma, non voglio spendere per queste cavolate. Ma quando invece, prima pensavo che tutto è dovuto e posso comprarmi qualsiasi cosa, allora là non avevo questa misura dei soldi. Perciò noi genitori dobbiamo essere molto attenti a pensare che tipo di messaggi, a volte sbagliati, li mandiamo ai nostri figli. Uno dei messaggi è questo, due estremi, ci sono soldi per tutto, perciò qualsiasi cosa vuoi te lo compro, te lo compro, te lo compro, perché non riesco a dirti di no. O quando ti dico di no, tu inizi a lamentarti, perciò ci sono soldi per tutto, che non è vero. L'altro estremo, che non ho soldi, non ho soldi per questa cosa. Che d'altra parte, figlio può chiedere, mamma non hai soldi per questa cosa, ma dopo mezz'ora, giorno dopo compri le altre cose. Allora non capisco come mai, non hai soldi per comprare il migiocattolo, ma hai soldi per comprare latte e le altre cose. Perciò anche qui dobbiamo sapere, da una parte cercare di essere esempio, e vedere che lavoro, guadagnarsi soldi, non è una punizione, non è una tortura, ma lavoro, o poter creare la propria impresa, e ti permette di sviluppare le proprie competenze, o mettere in pratica, quegli propri punti di forza, che la persona ha sviluppato nell'arco della vita. Perciò, atteggiamento del tipo, oh, lasciamo giocare, perché avrà tutta la vita per lavorare, non è un messaggio, dal mio punto di vista, migliore. Perciò, abbiamo affrontato, di tutte le competenze, dei nostri bambini, che sono composti da, le conoscenze, la scuola, tutto il tipo di capacità, che ogni bambino deve sviluppare, prendersi cura di se stesso, prendersi cura dell'ambiente, prendersi cura di se stesso, nelle relazioni con gli altri, saper costruire le relazioni sane, con gli altri, saper riconoscere i propri punti di forza, e svilupparli, ma soprattutto anche, ultimo, di tanti ancora, ma per me quelli principali, saper guadagnare, saper valorizzare il lavoro che si sta facendo. Un'ultima parte, ultimo elemento che compone tutte le competenze, è il nostro atteggiamento. atteggiamento è la nostra relazione, il nostro modo di relazionarsi con la realtà, e anche qui, qui possiamo dire che, quello che vedono figli a casa, non dico che, o lo imitano, o lo immodellano, sulla base di quello che vedono, o proprio vedendo quello che non gli piace, si comportano in modo opposto. Perciò, noi genitori qui, il nostro ruolo sta nel riuscire a aiutare, a sviluppare certi tipi di atteggiamenti, che aiutano, che non sono le cose che possiamo imparare a casa, non sono cose che, dove basta andare un corso di proattività, di curiosità, che ci permette di avere successo nella vita, professionale. Imparando del mio caso, quello che io cerco di fare con i miei figli, una delle cose è rimanere sempre curiosi, vorrei che i miei figli, guardano il Real Tech, li circonda, con la curiosità, curiosità di capire, capire come funziona, chiederti perché, perché ha fatto questa cosa, perché questo è accaduto dall'albero, e così via. Perciò, dobbiamo, devo avere tanta pazienza, per cercare di rispondere, alle loro domande, ma anche io cerco di incuriosirli, a guardare la realtà in questo modo. L'altra cosa è l'idea di seguire i propri valori, di ogni bambino, ma penso che il bambino già di dieci anni, è capace di riconoscere quello che per lui, per lei è importante nella vita, i propri valori, e poi da parte ogni genitore potrebbe parlare con i propri figli dei valori che sono i più importanti che ha nella vita, e aiutarli a scegliere e seguire questi valori. L'altra cosa che per me è molto importante, è la proattività. C'è il fatto che i miei figli sono autonomi, che sanno che devono fare certe cose, che non devo ricordare ogni giorno, che devono fare compiti, che devono lavare denti, perché sanno come funziona. L'altra cosa molto, molto importante, che sempre si riconosce di più come un atteggiamento vincente, è quella di non arrendersi di fronte alle difficoltà, di avere la mente che propensa verso le soluzioni. Ho un problema, esiste anche la soluzione, penso, non mi arrendo, sto là finché non trovo la sola soluzione. L'altra cosa è, ad esempio, autodisciplina. In questo momento la mia figlia si sveglia, riesce a farsi la propria colazione, a vestirsi, a prepararsi per la scuola, sa che deve prendere la merenda, io non li devo ricordare tutti i giorni, perché sa che lo deve mettere nello zaino. Se lo dimentica, giorno dopo, riflette, ne parliamo, che non era un comportamento, diciamo, responsabile, che forse è meglio un po' reagire diversamente. Il giorno dopo, ovviamente, si ricorda di più di quelle cose che doveva portare a scuola, se parliamo di ginnastica o di altri sport. L'altra cosa che in futuro voglio fare, penso da due o tre anni, è, ad esempio, dargli la sveglia, che le permette di svegliarsi da sola, a un certo orario, e da sola prepararsi per andare a scuola. Poi, dopo, ancora devo portare per un po' di anni a scuola, io, ma in futuro sarò capace di svegliarsi, prepararsi, preparare colazione e andare da sola a scuola. Ovviamente, potete immaginare che ci sono tante capacità, tanti atteggiamenti, che ogni genitore, diciamo, riflessivo, può scegliere, da voler sviluppare nel proprio figlio, però quelle che vi ho elencato sono quelle che per me, per me come genitore, sono più importanti. Per questo, in questo breve, non così breve periodo, volevo presentarvi questi tipi di elementi che compongono le competenze. Perché adesso tutti i genitori pensano in che tipo di corsi falli fare, inglese, francese, musica, cavallo, tennis, judo, karate, qualsiasi altra cosa. E invece di, ci sono tante cose, perciò, è giusto che i nostri figli facciano, però, fanno, però, è importante anche diventare noi i loro insegnanti, cerchiamo noi, noi dobbiamo diventare capaci a sviluppare il loro atteggiamento verso la vita che li aiuterà a essere più felici, a essere più sereni e aiutarli a sviluppare tutte queste capacità delle quali stavo parlando prima. Perciò, questo messaggio è per i genitori, ma chi non ha genitori può anche riflettere sulle proprie competenze, su cosa vorrebbe sviluppare. Ogni genitore dovrebbe riflettere, pensando sul nuovo anno scolastico, anche, non solo dei corsi che scelgo per il mio figlio per farli fare, ma, anche, in che modo io, come genitore, posso aiutare mio figlio a sviluppare queste competenze, soprattutto diverse capacità di quali stavo parlando. Perciò, vi chiedo proprio di riflettere su queste capacità o questi atteggiamenti che volete sviluppare nei vostri figli e pensare su che cosa puntiamo in questi mesi. Vogliamo diventare più autonomi a svegliarsi da soli o vestirsi da soli o prepararsi da soli la colazione o prendersi quella di propria stanza. Un passo alla volta in diversi ambiti permette poi dopo a vedere risultati in modo globale. grazie per la vostra attenzione visto che ci sono state diverse persone che nel frattempo lo stavano guardando ma fra poco questo video sarà disponibile sulla mia pagina e così chi ancora non l'ha visto lo potrà vedere intero. Ciao!